Allora, come detto stamattina, le lingue ufficiali di questo corso sono due, inglese e italiano. Per equità, stamattina la mia presentazione è stata in inglese e questa invece sarà in italiano. In ogni caso, per... I would say that now my presentation will be in Italian, but for anyone more familiar with English, all the slides are in English. And in this presentation, a lot of slides are mainly text. And so, spero di riuscire a presentare, insomma, le questioni principali. Allora, stamattina abbiamo avuto, attraverso le varie letture che ci sono succedute, insomma, una presentazione complessiva. Spero che sia risultato chiaro in qualche modo di quali sono le basi per cui ci si preoccupa in maniera crescente della cattiva condotta scientifica e di promuovere l'integrità nella ricerca, anche da un punto di vista di formazione. Qualcuno questa mattina ha anche, giustamente, questa è stata un'ottima cosa, posto alcune questioni anche molto pratiche, del tipo, ma d'accordo, ad esempio, di fronte a dei casi di cattiva condotta scientifica, di fronte, diciamo pure in maniera molto concreta, di fronte a più o meno palesi ingiustizie, grandi o anche, tra virgolette, piccole, come per esempio il caso di uno studente che si veda, per dire, sottratta l'idea alla base del, ad esempio, suo lavoro di tesi, che poi diventa un progetto e che poi diventa una pubblicazione, ma in cui il suo contributo non è riconosciuto. Che cosa si può fare? Che cosa si fa concretamente, da un punto di vista pratico, al di là delle definizioni e dei buoni principi? Questo sarà il cercare di dare una risposta, o perlomeno di costruire una cornice di contesto, entro la quale comprendere quali possono essere le direzioni nelle quali muoversi, per dare una risposta a questo tipo di domande, è proprio l'obiettivo di quest'ultima presentazione della giornata, ovvero che cos'è la cattiva condotta scientifica, ma soprattutto come possiamo gestire situazioni di questo genere, da un punto di vista pratico. I punti saranno pochi, cercherò anche di non essere eccessivamente lungo, perché alcune cose le abbiamo già viste, le definizioni le ripasseremo molto rapidamente, vedendo alcuni esempi pratici. Vedremo quali sono attualmente le opzioni, o meglio i modelli, attraverso cui è possibile pensare di affrontare problemi legati al cattivo condotto scientifico, in ogni caso a carenze, in una condotta onesta e corretta della ricerca. Faremo brevemente il punto rispetto a quello che è il quadro in Europa, in particolar modo in Italia, e infine, se avremo tempo, concluderemo facendo riferimento a uno strumento formativo, molto pratico, e come sempre le cose pratiche sono messe in atto, soprattutto dall'approccio statunitense, che è uno strumento che viene utilizzato, è una sorta di filmato interattivo che offre diverse opzioni di comportamento ed è uno dei principali strumenti che negli ultimi anni sono stati messi a punto, nell'ultimo paio d'anni, quindi molto recentemente, sono stati messi a punto dagli NIH proprio in quel quadro progettuale che abbiamo visto prima, gli NIH si stanno proponendo, puntando prevalentemente sulla formazione e sulla formazione soprattutto dei giovani ricercatori. E allora, primo punto, da un punto di vista pratico, cosa può essere la cattiva condotta scientifica? Abbiamo visto che ci sono stamattina i tre principali peccati mortali della cattiva condotta scientifica che sono il plagio, la falsificazione di dati o quella che viene definita la propria fabbricazione. La falsificazione è l'alterazione di dati realmente esistenti attraverso anche semplicemente una loro selezione, mentre la fabbricazione è realmente l'invenzione da zero di dati. Il dry labbing, cioè il fatto di fare un laboratorio a secco, insomma, un laboratorio asciutto senza sperimentazione di nessun tipo. Sulla frequenza abbiamo anche detto, e questi sono i principali studi di riferimento, avremo, come detto venire di prossimo, tra l'altro, l'autore di alcuni di questi principali studi, che è Daniele Fanelli, che parlerà diffusamente non soltanto di questi aspetti, ma più in generale dei diversi bias che affliggono la ricerca scientifica in ambito biomedico. Esempi pratici delle maggiori violazioni di una buona condotta della ricerca. La fabrication, cioè il fatto di produrre dati o risultati senza di fatto svolgere esperimenti. Ad esempio, uno degli esempi più comuni, e qui io mi rifaccio prevalentemente al materiale informativo e di formazione che è disponibile sulle pagine web degli NIH, uno degli esempi più comuni, ad esempio, sia nella sperimentazione clinica, ma lo possiamo applicare anche alla ricerca preclinica con i modelli animali di cui abbiamo sentito parlare fino adesso, ad esempio, per soddisfare le scadenze e le esigenze legate al reclutamento di un numero sufficiente di soggetti, come previsto dal protocollo, un ricercatore, un responsabile dello studio, può per esempio decidere di inventarsi completamente dei soggetti. Tutto questo teoricamente dovrebbe essere relativamente difficile nel contesto clinico, ma attenzione, perché relativamente difficile? Perché nel contesto clinico sono in atto tutta una serie di misure di controllo che però sono prevalentemente legate, per chi di voi ha una certa pratica della questione, alla sperimentazione clinica farmacologica, o meglio ancora, alla sperimentazione clinica farmacologica, quella che viene definita in gerogusetta registrativa, cioè gli studi clinici che sono condotti per la registrazione di nuovi medicinali che sono soggetti a tutta una serie di controlli da parte delle agenzie regolatorie. Allora in questo caso effettivamente a ogni soggetto che viene presentato nello studio deve necessariamente corrispondere un modello di raccolta dei dati, il quale a sua volta deve corrispondere alla cartella clinica del paziente che è stato effettivamente reclutato e seguito nella struttura dove lo studio clinico è stato svolto. Ma per quanto riguarda la sperimentazione preclinica, chi va a controllare? Al di là di tutto quello, per esempio, ecco, forse uno dei pochi aspetti che nel, credo, brillantissima presentazione del professor McLeod di poco fa non sono stati toccati, c'è la genuina onestà del ricercatore, chi va a controllare che i topi trattati siano 20 piuttosto che 30, piuttosto che 10, piuttosto che 5. Ci sono molti, numerosi esempi documentati, peraltro, di comportamenti di questo genere. I due che vi riporto sono gli stessi che sono segnalati sul sito degli NIH e il primo è di fatto un esempio anche di interesse storico, la storia di Eric Pellman, che è un ricercatore, tra l'altro citato anche nella lettura di Tony Mayer di questa mattina in quella sua galleria, diciamo, degli orrori, dei ricercati, dei colpevoli, dei casi maggiori di scientific misconduct, perché in realtà questo, e la sua storia poi è raccontata dettagliatamente anche in diverse pubblicazioni, questo che vi riporto qui è la principale ed è liberamente accessibile anche su web, racconta in dettaglio quella che è stata la vicenda, questo è un affermato ricercatore che a metà degli anni 90 si è scoperto, aveva di fatto inventato, in gran parte inventato di sana pianta, ma in gran parte ha anche falsificato dati clinici di pazienti inclusi in vari suoi studi. Io sono un ricercatore interessato nello studio delle malattie metaboliche soprattutto, quindi insomma ha condotto tutta una serie di studi, per esempio, sul rapporto tra BMI, alimentazione, patologie metaboliche di vario genere, e ad un certo punto è risultato che gran parte dei dati, non soltanto pubblicati, ma anche, questo è un altro aspetto che è stato toccato in realtà, anche ad esempio oggi pomeriggio nella lettura precedente, non soltanto dati pubblicati, ma anche i dati presentati in forma di report preliminari a corredo dei progetti di ricerca sottomessi ad agenzie di finanziamento. E in questo senso c'è un ruolo importante da parte anche dell'agenzia di finanziamento, nel definire le regole attraverso le quali decideva di finanziare o non finanziare un lavoro. Faccio riferimento anche alle principali agenzie e fondazioni no profit di finanziamento alla ricerca in Italia, e ormai le uniche a cui rivolgo ci sono queste, per inciso, in Italia i fondi pubblici per la ricerca sono totalmente azzerati da due anni, 13-14 i fondi per la ricerca universitaria montano a 0 euro, quindi i riferimenti sono solo quelli, e quasi tutte le regole per la presentazione di progetti richiedono di corredare il proprio progetto con dati preliminari. Questi dati preliminari devono anche essere abbastanza convincenti, allora capite la pressione che ci può essere, la domanda per esempio può essere, bene io ho bisogno di presentare dati preliminari, con quali fondi produco questi dati preliminari? L'esempio a destra invece è un esempio molto più recente, che sale a pochi anni fa, ed è un caso, questo è pubblicato su The Scientist, meglio la descrizione dettagliata che sono riuscito a reperire, è pubblicato su The Scientist, qui il caso è molto più banale, Perman è stato un caso storico, anche perché a metà degli anni 90 è stato probabilmente il primo ricercatore negli Stati Uniti che ha subito una condanna penale ed è stato anche condannato a un anno di carcere, che non so se poi è esattamente svolto come carcere o ha svolto in altro modo, ma di fatto poi l'incriminazione era legata all'aver ottenuto dei fondi pubblici, dei fondi federali, attraverso la presentazione di risultati falsi. Questo è stato il, ed è tuttora questo il meccanismo principale attraverso cui si possono perseguire case di questo genere. Questo secondo caso invece, dati fabbricati, riguarda molto probabilmente, riguarda anzi quasi certamente, ma alla fine le indagini che sono state svolte sono effettivamente arrivate a questa conclusione, il caso di un gruppo di ricercatori, o meglio di una ricercatrice del suo gruppo, che ha molto probabilmente, o almeno queste sono le conclusioni delle indagini svolte, completamente inventato dei dati derivati da un modello animale di malattia di Parkinson, nella quale è applicata una tecnica molto particolare di lettura delle lesioni cerebrali, di conteggio del numero di cellule, attraverso una strumentazione microscopica con lettura automatica, e l'analisi dei dati prodotti ha consentito di concludere che di fatto quel tipo di file prodotti dallo strumento non potevano altro che essere dei file contraffatti, ma questo solo ed esclusivamente dopo una ricerca molto approfondita. Anche questo discorso dell'uso di strumentazioni complesse, un altro dei fattori che vedremo, non è secondario spesso nel complicare le cose, nel valutare i risultati della ricerca. La falsificazione, la falsificazione paradossalmente forse è uno dei peccati mortali più comuni, e la tipologia più comune di falsificazione, ma anche quella che in anni recenti è anche la più semplice da identificare, è la falsificazione delle figure, nel senso la falsificazione delle figure per esempio derivate da esperimenti di biologia molecolare attraverso l'uso di software grafici. E tuttavia questa paradossalmente allo stato attuale è anche una forma di falsificazione che più facilmente viene identificata perché le principali riviste si sono attrezzate con dei software che analizzando i pixel delle immagini sono in grado di identificare le diverse forme di manipolazione. In questo senso non vi porto nessun esempio, ma per gli interessati raccomando la lettura di questo editoriale che è comparso qualche anno fa su Nature, che si intitola esattamente Image Manipulation CSI Cell Biology, che discute sia da un punto di vista teorico che da un punto di vista pratico quali sono i limiti che possono intercorrere anche in considerazione della potenza dei software che abbiamo a disposizione attualmente, software di analisi e di elaborazione di immagini, quali possono essere i limiti che passano tra il, diciamo così, legittimo miglioramento da parte del ricercatore dei risultati di determinati esperimenti e invece la vera e propria manipolazione. I casi estremi sono evidenti, i casi intermedi spesso hanno molto più che 50 sfumature di grigio, insomma, è proprio il caso di dirlo. Sul plagio, sul plagio abbiamo discusso anche stamattina riguardo al fatto che forse per quanto riguarda le questioni legate alla riproducibilità e alla qualità della ricerca è una questione relativamente secondaria di primario interesse soprattutto, ad esempio, per gli studenti che si trovano dove scrivere la tesi per i quali è sicuramente opportuno una formazione che oggi, almeno in Italia, peraltro non c'è. Interessante, per esempio, osservare, a parte la definizione generale, che ORI, Office for Research Integrity, questo è l'organo istituzionale che negli Stati Uniti, nell'ambito delle istituzioni federali dedicate alla ricerca e prima di tutto gli NIH, ha il compito istituzionale di fare formazione e di vigilare per reprimere casi di cattiva condotta scientifica, ha una sua policy specifica e, ad esempio, esclude dal plagio il semplice uso limitato di frasi anche del tutto uguali, ma secondarie rispetto al contesto generale del discorso, oppure, e questo consentirebbe, per esempio, di proseguire la discussione sul caso che è stato proposto stamattina dalla professoressa Rivero, anche dispute, per esempio, tra persone che sono state in precedenza collaboratori su quello che può essere la paternità di un testo, di un'idea, di un progetto o altro. E tuttavia la questione è aperta, come sempre, quando le cose si guardano da lontano, con delle definizioni generali, sembrano chiare, quando ci si avvicina la questione diventa invece estremamente complessa intricata. A questo proposito, per chi volesse approfondire il tema del plagio in generale, non soltanto nella ricerca scientifica, ma in generale, nella letteratura, nelle arti, anche nelle arti figurative, raccomando il piccolo libro del plagio di Richard Perl Posner, che è, in questo senso, un classico del... direi un classico del genere, tradotto anche in... tradotto anche in italiano. Abbiamo detto stamattina che la cattiva condotta scientifica è responsabile per la maggior parte delle ritrattazioni di pubblicazioni scientifiche. Abbiamo visto come queste ritrattazioni, peraltro, stiano crescendo, stiano crescendo nel tempo. Il professor McLeod ci ha dato anche ulteriori spunti a questo proposito. Per chi fosse interessato anche ad approfondire il tema, vedendo dei casi concreti, c'è un blog che da qualche anno è diventato un punto di riferimento nel raccontare storie, storie vere, storie di vita vissuta, nel cercare di ricostruire quello che sta dietro, per esempio, alle ritrattazioni di articoli scientifici, magari comparsi, su alcune delle principali riviste che hanno, a suo tempo, stimolato le maggiori discussioni. Questo blog si chiama Retraction Watch, c'è una sorta di torre di guardia, insomma, delle ritrattazioni di articoli scientifici e pubblica molto frequentemente, con una frequenza di due, tre storie al giorno, storie di ogni genere. Davvero conviene sfogliarlo. www.retractionwatch.com Prima di addentrarci nei possibili approcci alla gestione di casi concreti di cattiva condotta scientifica, conviene però, come si fa in medicina, insomma, per una buona, per cercare di impostare al meglio una terapia, da prima questione, una corretta diagnosi, cercando anche di identificare i fattori che hanno contribuito al manifestarsi della patologia. Allora, quali sono in realtà le possibili cause e fattori che contribuiscono alla cattiva condotta scientifica? Si diceva stamattina, molti tendono di fronte a discorsi fatti su questi argomenti a iper-semplificare, anche con un po' di fastidio, a dire, ma insomma, la scienza è scienza, il metodo scientifico è il metodo scientifico, dopodiché ci sono i ricercatori onesti e i ricercatori disonesti. Come si diceva stamattina, anche diceva la professoressa Ribeiro, un approccio è quello di dire siamo tutti esseri umani e vi considero la teoria della mela marcia. Questa teoria però ci porta poco lontano, perché la teoria della mela marcia insomma è molto confortante, autoassolutoria per tutti, perché alla fine troviamo periodicamente il capro espiatorio, ci mette tranquilli e andiamo avanti, ma in realtà non ci dà particolari spunti per trovare invece soluzioni operative a quello che credo che dopo le letture che abbiamo ascoltato fino adesso in qualche modo possiate essere convinti è realmente un problema e un problema di dimensioni notevoli. Allora, ci sono fattori e qui ritorno ad avere come riferimento il consensus report OECD che abbiamo citato anche questa mattina. Ci sono fattori identificato questo report legati prevalentemente ai ricercatori e alle questioni connesse alle loro carriere e ci sono fattori invece di contesto legati alla struttura e al funzionamento del mondo della ricerca scientifica. Quali sono i fattori del primo tipo? Sono essenzialmente questi. La pressione, la competizione per i finanziamenti. Ne abbiamo parlato. se i finanziamenti diventano particolarmente competitivi ebbè, voglio dire, insomma, bisogna essere molto solidi e integri per riuscire a mantenere i nervi saldi e come diceva qualcuno dice come possiamo però andare avanti quando la pressione si fa particolarmente forte. La necessità di ottenere dei risultati positivi e significativi e di pubblicarli per esempio per ottenere una posizione stabile all'interno del gruppo di ricerca o per progredire per progredire nella propria carriera o per ottenere ulteriori fondi. La mancanza di conoscenza o di preparazione sull'argomento qui stiamo facendo un corso ma almeno a livello nazionale possiamo sicuramente dire che è il primo e speriamo non unico in futuro esperimento di questo genere. La pressione per ottenere i risultati desiderati in particolare per quel tipo di ricerca che sia finanziato da soggetti che hanno poi come obiettivo diciamo l'applicazione e il profitto dei risultati. Questo evidentemente è prevalentemente anche se non esclusivamente il caso della ricerca promossa dall'industria farmaceutica soprattutto in ambito clinico come abbiamo visto questa mattina e poi tutta una serie di questioni che effettivamente possono essere riportate al profilo personale per esempio il desiderio di raggiungere la fama il desiderio di raggiungere dei risultati importanti la popolarità il successo l'invidia nei confronti di colleghi quindi il desiderio magari anche di danneggiare i colleghi piuttosto che in generale qui sicuramente arriviamo anche al piano personale ma soltanto da ultimo un profilo individuale dal punto di vista etico e morale discutibile però ripeto soltanto da ultimo i fattori sono tanti anche a livello individuale devono essere tutti tenuti in considerazione anche perché tutti questi fattori sono fattori di sistema che incidono sull'individuo però sono di sistema voglio dire dal punto di vista dell'organizzazione delle istituzioni che fanno ricerca a livello statale a livello delle singole istituzioni e per quanto riguarda i soggetti pubblici o privati che finanziano la ricerca sono tutti legati a scelte riguardo ai sistemi che si applicano a questo proposito e poi ci sono i fattori primariamente legati alla maniera in cui si sta evolvendo il sistema della ricerca scientifica ad esempio gli aspetti negativi legati all'iperspecializzazione della ricerca che riguardano i due aspetti estremi da un lato il fatto che l'iperspecializzazione possa portare singoli ricercatori a lavorare prevalentemente da soli nel campo biomedico è relativamente difficile è quasi sempre un lavoro di equip ma dall'altro lato l'iperspecializzazione porta anche al fatto che il lavoro in gruppo o in lavoro in più gruppi spesso è formalmente in gruppo in più gruppi ma poi al lato pratico è parcellizzato nel senso che ognuno sa fare un pezzo di lavoro che non sa fare qualcun altro ma cosa vuol dire non sa fare qualcun altro vuol dire non essere nemmeno in grado di entrare nel merito e di capire come quel pezzo di lavoro sperimentale è stato effettivamente condotto e qual è la natura dei risultati il che per esempio si collega direttamente per certi aspetti al secondo aspetto il fatto che la ricerca scientifica in ambito biomedico utilizza sempre più degli approcci estremamente complessi attraverso l'uso di strumenti particolarmente complicati che essi stessi richiedono delle competenze particolari spesso non sviluppabili da un singolo ricercatore o comunque non sviluppabili nel breve periodo e quindi spesso ci sono noi ci rivolgiamo ad esempio per risolvere determinate questioni a quella singola persona che è l'unica in grado di manovrare quello strumento di tipo analitico oppure microscopi particolari piuttosto che strumenti analitici di vario di vario genere e che quasi soltanto lei è in grado di produrre e interpretare i risultati di quello strumento è un fattore di rischio è un fattore che anche questo può rientrare nel discorso della parcializzazione della ricerca stamattina parlavamo della statistica la statistica quando la svolgiamo da soli la svolgiamo ormai tutti almeno ai livelli più elementari tutti dovremmo essere in grado di applicare almeno i più semplici test statistici ma di fatto ormai sempre io credo 25 anni fa ai tempi della mia tesi di laurea ho visto fare e una volta anche ho fatto manualmente le formule necessarie per calcolare il P con un test del TD student una sola volta in vita mia da allora in poi ho sempre utilizzato dei software automatizzati che quasi per magia mettendo dentro tutti gli ingredienti in maniera più o meno corretta speriamo sempre ci diano dei valori di P rassicuranti abbiamo visto stamattina il significato del P hacking la scarsa consapevolezza o l'ignoranza delle regole degli standard per una adeguata condotta scientifica nella ricerca ma che spesso ho trovato molto condivisibile una delle conclusioni del professor McLeod che spesso coincidono proprio con quella che è davvero una mancanza di professionalità o magari anche di professionismo nell'attività dei ricercatori il fatto che sempre più e questo credo che sia un tratto culturale dei tempi in cui viviamo sempre più ci convincano che la ricerca deve essere necessariamente applicata cioè deve avere dei risultati concreti e applicabili per qualche fine che spesso magari è anche legato a un profitto concreto e immediato i risultati della ricerca devono trasformarsi in brevetti i risultati della ricerca devono trasformare il ricercatore sulla base dei suoi risultati in un ricercatore di successo se anche lavorando in un ambiente universitario per esempio riesce a creare la sua società di spin off e di conseguenza mettere a profitto non solo a frutto i suoi risultati che attenzione è una cosa diversa rispetto al primo punto che ci ha mostrato il professor McLeod poco fa in quel suo grafico in cui in quello suo grafico figura tabella in cui evidenziava i vari stadi del possibile spreco di risorse nella ricerca biomedica il primo punto era porsi questioni rilevanti dal punto di vista scientifico porsi questioni rilevanti anche sulle due diverse scale la scala applicativa o la scala della conoscenza o contemporaneamente sul fronte dell'aumento delle conoscenze di base e anche sul fronte applicativo è diverso porsi il problema della rilevanza della questione che si vuole indagare rispetto invece al porsi il problema di ottenere dei risultati che possono essere messi a profitto più o meno rapidamente e questo è sicuramente un fattore distorsivo rilevante le pressioni e le aspettative da parte dei finanziatori ma anche per esempio per studenti di dottorato per giovani ricercatori da parte dei supervisori devi ottenere dei risultati per raggiungere il titolo di avere pubblicato almeno uno due lavori o anche da parte di chi pubblica anche da parte delle riviste scientifiche abbiamo sentito abbiamo cominciato e sentiremo ulteriormente parlare del desiderio che hanno le riviste scientifiche per stare sul mercato di pubblicare articoli che attraggano l'attenzione e vengano particolarmente letti venerdì parleremo anche del sistema e del mercato delle citazioni e così via insomma le cause e i fattori di cui tenere conto sono molteplici tanto per fare un caso concreto anche in questo contesto io vi cito forse qualcuno di voi è già al corrente di questo se magari ha qualche prospettiva di questo genere se non lo è e si sta ponendo la prospettiva di l'obiettivo di entrare nella università italiana e cercare di fare un qualche tipo di carriera al suo interno anche se come vi ho detto le probabilità calcolate dall'associazione dei dottorandi italiani sono del 2-3% che un un dottorando o un assegnista di ricerca riescano effettivamente a inserirsi in università se qualcuno vuole giocarsi queste 2-3% di possibilità tenga conto che oggi da un paio d'anni a questa parte il sistema di reclutamento almeno formalmente apparentemente più trasparente di prima ma più che altro vi dice esplicitamente quali sono gli obiettivi che dovete perseguire per avere un profilo scientifico o più esattamente un un elenco di pubblicazioni dal punto di vista quantitativo che vi consenta quantomeno di concorrere per ottenere quella che oggi si chiama abilitazione a diventare in futuro eventualmente professori universitari l'abilitazione è quel gradino che attualmente è richiesto per poter partecipare all'eventuale concorso che un'università decida di bandire in una determinata disciplina allora i parametri che vengono richiesti attualmente sono misurati secondo punto 2 gli indicatori bibliometrici che sono indicati qua vedete da utilizzare nelle procedure di abilitazione professore punto 1 numero di articoli su riviste contenute nelle principali banche date internazionali parleremo venerdì delle banche date che vengono utilizzate come riferimento ma numero di articoli numero di articoli all'anno e c'è un numero di articoli medio per ogni settore disciplinare numero totale di citazioni ricevute e indice H di Hirsch chi sa che cos'è l'indice H di Hirsch è qualche cosa da sapere se intendete concorrere per diventare un domani docenti universitari parleremo di questo nell'ora dedicata al gioio e dolori della bibliometria venerdì prossimo però questi sono in ogni caso tutti i parametri legati al numero di pubblicazioni e a quante volte queste pubblicazioni vengono citate da altri allora questo che è un sistema che è diventato legge in Italia è un notevole fattore di pressione il publish or perish che noi italiani siamo sempre stati abituati a vedere come una croce sulle spalle dei ricercatori soprattutto nell'ambito anglosassone o ancora di più prevalentemente statunitense è arrivato anche qua in una versione molto italiana però è arrivato anche qui forse ha anche già cominciato a dare qualche conseguenza pratica dico forse perché questa è una associazione e non un nesso causale come il professor McClough ci ha insegnato a distinguere poco fa però questa è un'analisi del numero di pubblicazioni pannello di sinistra questo è il numero assoluto di pubblicazioni estratte da PubMed che riportano una affiliazione italiana nel tempo negli anni dal 2004 2005 2006 questa linea in corrispondenza del 2011 corrisponde all'anno in cui queste regole che vi ho appena brevemente spiegato sono entrate in vigore e questo è il numero di pubblicazioni del 2012 in PubMed quindi l'ambito biomedico in generale in valore assoluto in percentuale rispetto all'anno precedente e in delta cioè in crescita rispetto all'anno precedente vedete quello che succede dal 2011 al 2012 allora è un'associazione non è minimamente un nesso causale questo andrà riverificato se ce ne sarà il tempo io personalmente sono curioso di vedere cosa effettivamente succederà ma quando sarà passato qualche anno e quando questi numeri saranno anche stabilizzati e tuttavia è alquanto suggestivo il fatto che se osserviamo l'aumento percentuale 2012 sul 2011 a confronto con altri paesi europei questa è la Germania il quadrato questa è la Francia e questa è l'Inghilterra il triangolo rovesciato l'Italia qui in rosso è quella che dal 2011 al 2012 ha il picco più elevato questo coincide per esempio anche con alcune esperienze personali ad esempio ho la percezione di moltissime persone che incontro quotidianamente che dicono oggi non avendolo mai detto prima ho bisogno di pubblicare potrebbe anche essere un bene potrebbe anche essere un bene aumenta l'output scientifico della ricerca biomedica italiana e tuttavia dopo tutto quello che abbiamo sentito fino ad oggi sulla quantità di lavori fino adesso che abbiamo sentito oggi fino adesso sulla quantità di lavori che sono condotti con metodologie quantomeno approssimative che necessiterebbero di un maggiore rigore voglio dire molto probabilmente un'impressione di questo genere non è esattamente la cosa migliore che si possa fare per migliorare quegli aspetti qualitativi che abbiamo visto potremmo dire che per chi fosse interessato magari nei prossimi anni a svolgere ricerca nel campo dell'integrità della ricerca scientifica della cattiva condotta scientifica l'Italia in questo momento è diventato un potenziale modello sperimentale per studiare gli effetti di un intervento di questo genere magari qualcuno in futuro vorrà dedicarsi anche a questo gestire casi di cattiva condotta scientifica faccio sempre riferimento al documento VCD e qui primo punto chi dovrebbe gestirli perché da un punto di vista teorico è relativamente semplice immaginarsi gli esempi che vi ho riportato casi di plagio caso di falsificazione casi di fabbricazione totale di dati benissimo chi dovrebbe gestirli in quale contesto e con quali responsabilità solitamente si dice la comunità scientifica apparentemente perché è ragionevole dire che la comunità scientifica è l'unica che ha gli strumenti prima di tutto legati alle conoscenze di metodo e di merito per comprendere quello che accade prima ancora di giudicarlo e tuttavia e tuttavia ad esempio c'è anche una responsabilità che può essere attribuita a quelli che vengono definiti government officials cioè funzionari delle strutture amministrative e di governo sia locali che nazionali o meglio sia nazionali che locali per tutta una serie di motivi per esempio perché formalmente sono loro che hanno la responsabilità primaria di assicurarsi che i fondi pubblici per la ricerca siano correttamente spesi perché per esempio sono responsabili della sicurezza sicurezza pubblica come ad esempio le agenzie regolatorie che registrano nuovi farmaci o sicurezza locale nelle strutture universitarie sicurezza per quanto riguarda lo svolgimento delle attività di ricerca perché sono coloro che amministrano gestiscono e spesso allocano le risorse destinate alla educazione e alla formazione dei ricercatori sia giovani che senior spesso anche perché sono le uniche persone che formalmente hanno le prerogative per intervenire da un punto di vista anche amministrativo e giuridico e qui vedremo quali sono i problemi che si possono presentare tenendo anche presente appunto la comunità scientifica e i ricercatori sono un eccellente ricercatore dal punto di vista scientifico ma qui ci vogliono anche delle nozioni di carattere giuridico e dal punto di vista giuridico per quanto tutti i docenti universitari siano convinti di essere esperti di tutto perché questa è una delle prime caratteristiche per diventare professor universitario essere convinti di sapere tutto tuttavia dal punto di vista pratico spesso emergono alcuni limiti in ogni caso gestire casi di cattiva condotta scientifica è una responsabilità condivisa tra funzionari pubblici ricercatori e amministratori istituzionali come? secondo quali modelli? da un punto di vista pratico secondo quali modelli? i modelli in generale potrebbero essere tre sono effettivamente modelli che si trovano operativamente nei paesi in cui in qualche modo sono stati sviluppati poi vedremo operativamente uno dei vari esempi uno comitati istituiti ad hoc di fronte a specifiche segnalazioni specifici singoli casi spesso composti da individui di prestigio solitamente indipendenti magari reclutati dall'esterno dall'istituzione e così via oppure comitati permanenti all'interno delle delle istituzioni oppure comitati organi forse anche meglio dire dedicati a livello nazionale per certi versi quell'Office for Research Integrity degli NIH che vi ho menzionato prima corrisponde abbastanza bene a questo terzo modello peraltro con notevoli anche con notevoli differenze da dove possono nascere segnalazioni di cattivo condotto di vario genere anche questo va tenuto presente spesso queste segnalazioni possono essere del tutto etreogene e possono nascere in tantissimi modi questi sono soltanto quattro delle miriadi di possibili esempi ad esempio uno studente di dottorato che si renda conto che nel proprio laboratorio i dati vengono inventati che fa? a chi si rivolge? ma questa è già un'altra domanda oppure un ricercatore che si trovi incapace di riprodurre i risultati di un altro gruppo sullo stesso argomento su cui lui lavora stamattina abbiamo continuato a parlare anche oggi pomeriggio di pubblicazioni non riproducibili che magari si renda conto anche per conoscenza per conoscenza diretta che questa impossibilità di riproduzione è legata a delle pratiche discutibili evidenze legate all'identificazione del plagio ormai esistono anche software che anche alcune università italiane ad esempio sono dotate a caro prezzo di software che analizzano i testi delle tesi dei propri studenti per identificare casi di plagio e queste università spesso lo fanno rutinariamente ma devono istituire delle regole a questo proposito oppure ad esempio attraverso la verifica di curricula oggi anche in Italia i curricula specialmente per quanto riguarda le pubblicazioni i titoli sono ormai prevalentemente esclusivamente autocertificati ma l'autocertificazione non esime anzi responsabilizza l'istituzione ricevente rispetto al controllo un sistema di gestione di questo tipo di casi di queste situazioni prima di tutto deve tenere presente l'eterogeneità delle possibili fonti di segnalazione come gestirle e qui cominciamo con le domande da qui in poi praticamente non ci sono ci sono molte più domande che risposte ma sono tutte domande sulle quali riflettere per definire anche quelli che potranno essere i modelli da realizzare allora ad esempio chi dovrebbe essere la prima persona che riceve la segnalazione e la gestisce dovrebbe essere una figura dedicata un funzionario amministrativo una persona con una competenza anche di tipo scientifico dovrebbe anche avere una formazione di carattere più generale per esempio nella gestione anche giuridica o anche relazionale della questione nella scelta della figura ad esempio ci può essere il problema del potenziale si potrebbe cosa anche definire conflitto o comunque problema relazionale se la persona per esempio ha una figura istituzionale anche particolarmente autorevole uno potrebbe dire mi rivolgo al direttore del dipartimento mi rivolgo al preside della facoltà mi rivolgo al rettore dell'università ma se io sono ad esempio nella posizione di essere uno studente di un corso di laurea uno studente di un corso di dottorato la forte differenza diciamo pure gerarchica di ruolo spesso può anche diventare un fattore scoraggiante tanto più se rispetto a determinati ruoli questi possano anche implicare una mia posizione diciamo pure di vulnerabilità rispetto a quello che sarà il mio prossimo percorso nel corso di laurea la possibilità di continuare il mio corso di dottorato e così via è disponibile una sufficiente informazione al potenziale accusatore in che forma chi sono gli interlocutori se avrà determinate tutele come documentare la segnalazione con quali elementi ci possono essere delle restrizioni riguardo a chi può essere l'accusatore o a chi può essere l'accusato uno studente non ancora laureato ad esempio può avere una sufficiente qualifica per fare segnalazioni che possono essere accettabili in che forma e entro quali termini le segnalazioni anonime possono essere accettate o no completamente anonime se voi foste i responsabili di un sistema all'interno di una istituzione universitaria prendereste in considerazione segnalazioni completamente anonime poi vi dirò più in dettaglio la scelta questa università non ha un sistema di questo genere però ha un codice etico accademico che dice esplicitamente che le segnalazioni anonime non vengono accettate però dice anche esplicitamente che garantisce l'anonimato del segnalatore durante tutto il processo istruttorio di indagine eccetera eccetera l'anonimato del segnalatore vuol dire che questo è conosciuto soltanto qui abbiamo una commissione etica di cui fa parte anche il professor Picozzi che era con noi stamattina che non è dedicata a gestire la cattiva condotta scientifica è dedicata a gestire in generale le tematiche etiche etico professionali all'interno dell'università che non accetta segnalazioni anonime ma garantisce l'anonimato del segnalatore se viene richiesto tuttavia le questioni sono molteplici rispetto alle segnalazioni dovrebbe essere prevista per esempio un tempo di prescrizione come accade per i reati e gli illeciti oppure se un mio lavoro pubblicato vent'anni fa poi si scopre che me lo sono totalmente inventato io sono ancora perseguibile vent'anni fa dieci anni fa cinque un anno sono problemi aperti e non hanno risposto alcuni di questi problemi non hanno risposto nemmeno nel contesto di situazioni nelle quali esistono sistemi che esistono sistemi istituzionali e se l'accusa poi è falsa e se io ho fatto una segnalazione allo scopo di danneggiare un collega con cui ho cattivi rapporti certo ma cosa si fa certo e se è falsa è falsa ma allora all'accusatore cosa si fa e ad esempio anche ma questo è un altro è un altro è un altro punto come si tutela visto che queste accuse diventano anche molto gravi soprattutto per l'immagine delle persone del gruppo del laboratorio del dipartimento dell'università oggi nella sua presentazione molto disturbata piuttosto nell'audio ma se qualcuno di voi ha colto una delle motivazioni principali che Tony Mayer diceva perché la la università la Nanyang University di Singapore ha istituito e tiene moltissimo al suo ufficio per l'integrità nella ricerca è proprio per l'immagine l'immagine però può anche essere no? che qualche anno fa parlava di macchina del fango giusto qual è il ruolo e l'autorità della persona che riceve le segnalazioni nel senso questa persona riceve le segnalazioni e parte immediatamente con un'istruttoria oppure può fare un qualche indagine tipo preliminare e anche cercare per esempio una sorta di soluzione pacifica arrivo lo studente e dice la mia tesi dell'anno scorso è diventata una pubblicazione in cui io non sono autore l'esempio che si faceva prima allora cosa si fa si cerca una conciliazione preliminare con il responsabile della pubblicazione che magari è possibile in qualche maniera c'è tutta una serie di atti riparatori eventualmente possibili il riconoscimento se un lavoro è stato appena pubblicato si può anche chiedere una correzione alla rivista con l'aggiunta oppure si dice ciò che è stato è stato si parte con la procedura di indagine per arrivare alla sanzione insomma sono tanti aspetti aperti e nella fase di indagine con quale autorità si ottiene la cooperazione delle parti da un punto di vista pratico un gruppo un responsabile un coordinatore di un gruppo di ricerca viene accusato di una qualche forma di discutibile condotta scientifica benissimo su quali basi per esempio l'università può una figura delegata all'università può entrare dico entrare metaforicamente ma anche entrare concretamente nei laboratori a verificare e a verificare cosa stamattina dicevamo la conservazione dei dati uno dice ma io non sono obbligato a conservare i dati io i dati non ce li ho più quello che ho pubblicato ho pubblicato ma soprattutto con che autorità me lo viene a chiedere sono cose che restano comunque da stabilire attualmente e se il problema riguarda differenti istituzioni differenti università per esempio lavori in collaborazione tra università diverse o tra istituti di ricerca differenti e se nel corso dell'istruttoria emergono nuove evidenze e se emergono addirittura evidenze di illeciti o reati qui stiamo parlando di cose che sono al di fuori del del reato e dell'illecito stiamo parlando di questioni che ricadono nell'ambito della cattiva condotta scientifica perché se invece fossero da codice civile o da codice penale sarebbero giustamente materiale per la procura e se durante l'indagine emerge materiale di interesse per una procura che si fa si interessa la procura e nel frattempo si continua l'indagine la si interrompe cosa si fa nei confronti delle persone interessate ci sono limiti alla autorità di chi svolge gli istruttori per esempio ci sono dei dubbi sulla correttezza dei risultati di determinati esperimenti è possibile chiedere che gli esperimenti vengano ripetuti questa è una questione da poco non potrebbe dire ma veramente secondo me che si esperimenti su questa linea cellulare ha detto proprio non li hai fatti oppure non può avvenire un risultato di questo genere dimostrami che viene ripetendo i risultati ripetendo gli esperimenti su quel medesimo modello sotto la supervisione di qualcuno è possibile lo stato attuale probabilmente probabilmente no insomma e chi finanzia le attività istruttorie di investigazione con quali fondi giustamente anche questa è una cosa su cui e le questioni di correttezza fairness sono particolarmente importanti proprio per le implicazioni che hanno questo tipo di procedure quindi insomma non non si può non si può andare con l'accetta in una situazione nella quale forse addirittura il bisturi è ancora uno strumento che rischia di essere grossolano di per sé stesso ancora quali sono le condizioni di confidenzialità di segretezza durante durante anche l'istruttoria qual è il livello di prove che dovrebbe essere prodotto per esempio è una testimonianza orale oppure ci vuole documenti e di che tipo e nel frattempo in casi di questo genere si mantiene la presunzione di innocenza oppure no è possibile anche prendere provvedimenti cautelativi e di che tipo che tipo di difesa può essere garantita all'accusato si deve difendere da solo può ricercare una consulenza di qualche genere e a spese di chi per esempio se la consulenza dovesse essere particolarmente onerosa possono esistere diritti di appello sulla conclusione di una indagine nel corso dell'indagine o alla fine dell'indagine chi dovrebbe avere diritto di accesso ai documenti e ai risultati tipicamente per esempio i giornalisti la stampa l'informazione pubblica tanto più quanto più le conclusioni spesso possono non essere ancora arrivate oppure possono essere delle conclusioni talmente complesse che una stampa generalista può anche facilmente equivocarle ma sono tutti aspetti da tenere in considerazione e se alla fine dopo un accuso un lungo calvario di indagine il tutto si risolve in nulla come si tutela la figura di chi è stato coinvolto e accusato in situazioni di questo genere insomma le questioni sono piuttosto complesse come si conclude come si può concludere un processo processo nel senso di procedura ma anche nel senso di processo su casi di questo tipo che tipo di misure disciplinari possono essere prese quali possono essere i possibili verdetti devono essere fissi possono essere modulati chi commina le le sanzioni che cosa si dovrebbe fare per proteggere ed eventualmente per ristabilire la reputazione di una persona nel caso in cui il tutto alla fine si dimostri infondato e il progetto di ricerca che eventualmente è stato interrotto perché poi i progetti di ricerca hanno dei tempi ad esempio e sono anche delle questioni molto delicate non sono come tutti ben sapete delle catene di montaggio delle macchine che possono essere spente e riaccese con un interruttore spesso i danni sono incalcolabili anche semplicemente per dei rallentamenti o dei blocchi del lavoro anche di poche settimane e come si fa a proteggere quelli che vengono definiti qui innocent bystander con un termine un po' preso dall'immunopatologia cioè le persone che non c'entrano niente ma si trovavano nel posto sbagliato al momento sbagliato come ad esempio i dottorandi i borsisti i ricercatori a contratto gli studenti che stanno facendo tesi e uno studente che stava facendo un'attesi o che ha appena fatto un'attesi o che si è laureato la settimana scorsa e poi si scopre che i dati contenuti in quella tesi sono ricavati che succede? gli ritiriamo la laurea? lo facciamo ripartire da capo? sono tutti problemi aperti senza una risposta definita ma che in ogni caso credo che il valore maggiore di questo documento che vi ho segnalato stia proprio nel fatto di inquadrare sistematicamente tutti gli aspetti che vanno tenuti in considerazione qui stiamo parlando di sistemi istituzionali per gestire casi di cattiva condotta scientifica potenziali casi di cattiva condotta scientifica vi faccio come vedete vi avevo promesso dopo tutta questa questa teoria che fa molte più dovete che offre molte più domande che risposte abbiamo promesso un caso specifico questo è un caso tuttora direi estremamente caldo e in parte anche non concluso e che risale pochi anni fa su Retraction Watch troverete moltissimo materiale in proposito ma poi vi segnalo un paio di articoli sui quali trovare anche in maniera molto più strutturata tutte le notizie tutte le informazioni ad oggi disponibili su questo caso ve ne parlo comunque credo che possa essere considerato un caso di studio perché bene o male sembra che si sia arrivati a delle conclusioni definitive però ancora con delle implicazioni del tutto in evoluzione questo è il caso questo 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 ricercatore questo medico ricercatore che vedete qui è un è un medico un cardiologo che lavorava al Erasmus University di Rotterdam ed era fino a pochi anni fa uno dei più affermati ricercatori in ambito cardiovascolare con un record di pubblicazioni notevolissimo considerato uno dei leader della ricerca in diversi ambiti della ricerca e della clinica in diversi ambiti del campo della cardiologia e risale alla fine del 2011 la notizia del suo licenziamento all'Università di Rotterdam l'Università di Rotterdam aveva condotto una prima indagine sono emersi non è noto come siano emersi o almeno nella documentazione disponibile non mi sembra che non sia stato possibile recuperare l'originaria segnalazione di possibili scorrettezze nello svolgimento della sua attività di ricerca clinica nello svolgimento di alcuni protocolli di ricerca clinica però dopo una prima istruttoria dopo una prima indagine l'Università di Rotterdam ha ritenuto di aver raccolto sufficienti elementi da poter concludere che questo medico ricercatore andava licenziato infatti alla fine del 2011 è stato licenziato però la questione in realtà non era ancora finita perché lui è stato responsabile di diversi progetti di ricerca di diversi protocolli per i quali c'erano numerosi dubbi e allora l'Università di Rotterdam ha istituito già aveva istituito un comitato ad hoc per la prima indagine quindi qui il modello è stato quello del comitato ad hoc ne ha istituito un secondo che ha condotto una seconda indagine che si è conclusa un anno quasi un anno dopo il licenziamento del ricercatore su ulteriori studi arrivando alla conclusione che anche questi ulteriori protocolli erano stati condotti con le stesse pratiche scorrette e discutibili quali erano queste pratiche scorrette e discutibili qui di fatto assistiamo a un possibile modello di gestione del caso il comitato ad hoc che conduce delle indagini interne basate sul reperimento di tutta la documentazione disponibile legata allo svolgimento di quei protocolli di studio clinico compresi i dati grezzi conservati in clinica e nelle strutture dove la ricerca è stata svolta con redazione e pubblicazione di un rapporto finale che l'università che l'università ha reso pubblicamente disponibile lo potete trovare tuttora sul sito dell'università dove si trova anche un comunicato un comunicato finale nel quale tra l'altro si legge shortcomings se riuscite a leggere le violazioni includono serie violazioni della procedura utilizzata uno per ottenere il consenso informato da parte dei pazienti molti dei pazienti non hanno dato un valido consenso informato nel invio delle pubblicazioni perché poi questi studi sono anche già stati pubblicati basati su dati non affidabili e scientificamente inaccurati quello in pratica che sembra che sia emerso è che numerosi dei dati clinici ottenuti dai pazienti in realtà o non erano nemmeno stati ottenuti oppure sono stati ottenuti con delle tecniche delle maniere per esempio elettrocardiogrammi ecocardiogrammi in maniera inaffidabile per cui comunque non è stato possibile ricostruire se effettivamente erano quelli qualcuno ha anche condotto delle rielaborazioni statistiche sui dati pubblicati concludendo che non diversi dati pubblicati erano inverosimili rispetto alla natura delle funzioni delle funzioni investigate e tuttavia se notata nell'ultima frase queste violazioni della integrità accademica tuttavia l'università tiene a sottolineare non hanno comunque procurato nessun rischio ai pazienti e in ogni caso l'università è arrivata alla conclusione che il contratto con il ricercatore responsabile è stato comunque è stato comunque terminato quindi l'università conclude in questa maniera sottolineando peraltro che nessun rischio insomma c'è stata una cattiva condotta metodologica nell'ottenere il consenso informato nel raccogliere i dati nell'utilizzare quei dati per le pubblicazioni e però nessun rischio per i pazienti che sono stati coinvolti in quegli studi questo è il report che è reperibile sul sito web dell'università questa è la versione in inglese la versione in olandese è un po' più criptica almeno per il sottoscritto ma vediamo soltanto le conclusioni questa è una tabella che riassume le conclusioni dei diversi studi che sono stati esaminati che le vedo sulla sinistra sono i nomi dei progetti progetti clinici di crise è un acronimo per i protocolli clinici tutti i protocolli che prevalentemente prendevano in considerazione l'opportunità di premedicare pazienti cardiopatici con beta bloccanti per ridurre il rischio operatorio per interventi di chirurgia maggiore non cardiaca questo era il punto nella colonna centrale sono le conclusioni della commissione di indagine nella colonna sono le raccomandazioni notate le raccomandazioni per i vari studi informare la rivista su cui il lavoro è stato pubblicato e informare i coautori ancora prima di informare la rivista non procedere con la pubblicazione di dati ancora non pubblicati senza controllare ulteriormente la qualità dei dati informare la rivista e informare la rivista quindi sono tutti studi già pubblicati conseguenze per i dottorandi che erano coinvolti e che nel frattempo hanno fatto la tesi su quei dati questa è una possibile soluzione rivolta al problema che si diceva prima e ad esempio chi quei dati li ha utilizzati ha lavorato a quello studio ha utilizzato date che poi sono rivelati discutibili per esempio per la sua tesi di laurea e per la sua tesi di dottorato nei tre punti ultimi se si riesce a leggere la commissione conclude che con un ragionamento che può essere più o meno condivisibile ma comunque è un modello di ragionamento punto uno la comunità accademica può essere adeguantemente informata riguardo all'infrazione ai problemi che si sono verificati nei vari studi informando le riviste su cui gli studi sono stati pubblicati poi le riviste decideranno poi vedremo cosa hanno deciso le riviste fino ad oggi una tesi è intesa come un'evidenza di competenza accademica questo è dimostrato dalla tesi come tale la commissione e il comitato non desidera squalificare le tesi sulla base dei pochi capitoli che contengono quei dati discutibili il comitato ha esaminato e di conseguenza tenendo anche presente che i candidati che possono essere stati coinvolti sono comunque stati coinvolti in maniera prevalentemente inconsapevole involontaria e in ogni caso in una posizione di inferiorità e di vulnerabilità ma la conclusione è che il comitato considera che questi candidati genera l'impressione generale che i candidati in questione per quanto possano aver avuto una loro responsabilità riguardo alla integrità accademica in generale del lavoro a cui hanno partecipato si trovasse in una posizione tale da non avere né le informazioni è to little overview nemmeno l'opportunità di mettere in discussione la metodologia di lavoro del responsabile della ricerca e di conseguenza implicitamente si conclude non devono essere considerati responsabili di nulla e in ogni caso la tesi per quanto le tesi per quanto contengono quello che poi si evince da queste conclusioni per quanto contengono dei dati discutibili o anche francamente invalidati l'attesa in quanto tale mantiene il suo valore è una soluzione possibile si può essere d'accordo o non d'accordo si possono identificare aspetti più o meno discutibili comunque è un modello conclusione generale la conclusione generale riguarda il fatto che in ogni caso da tutto l'insieme dell'investigazione dei dati che si sono ottenuti è stato una considerevole danno soprattutto di immagine sia al ricercatore ma questo è confermato ma soprattutto anche all'università in quanto tale ci sarebbero diversi altri aspetti da approfondire ma la commissione conclude molto probabilmente già abbiamo fatto fatica ad ottenere dati solo parziali per arrivare a questa conclusione molto probabilmente lo sforzo ulteriore non è giustificato rispetto a quello che ci potremmo aspettare di ottenere ulteriormente e di conseguenza la raccomandazione è fermiamoci qui ed eventualmente il comitato considera che ulteriori indagini e investigazioni di questo lavoro potrebbero essere indicate soltanto se stringente ulteriori elementi e argomentazioni scientifiche o di interesse sociale e collettivo potessero emergere ma se allo stato attuale la situazione resta tale chiudiamola qui e questa è la conclusione dell'università nel frattempo però attenzione la conclusione dell'università fine 2012 la prima e per il momento unica ritrattazione di una delle pubblicazioni messe in discussione è apparsa all'inizio di gennaio di quest'anno le altre per il momento le riviste le hanno messe sotto indagine le riviste ma non le hanno ancora ritrattate è un problema non è un problema restano in ogni caso nella nella pubblicistica scientifica nei database a disposizione di tutti e tra l'altro erano a suo tempo anche diventate le basi queste pubblicazioni per una meta-analisi sulla base della quale la società europea di cardiologia ha definito le proprie linee guida per l'uso di beta-bloccanti nella riduzione del rischio operatorio per chirurgia non cardiaca in soggetti cardiopatici che raccomandano l'uso dei beta-bloccanti ma questo è il gruppo di Darrell Francis all'Imperial College di Londra che ha ritenuto di ripetere sulla base appunto del caso dell'Università di Rotterdam ha ritenuto di rianalizzare quella meta-analisi scorporando gli studi che sono stati messi in discussione questo è un lavoro che è appena stato pubblicato su Heart una delle principali riviste in ambito cardiologico fortemente discusso c'è anche un editoriale di accompagnamento di Darrell Francis che era stato per dire quanto la questione è controversa era stato originariamente pubblicato ma poi la rivista lo ha per il momento ritirato affermando che lo ha ritirato perché molto probabilmente i contenuti devono essere sottoposti a peer review mentre l'editor lo aveva pubblicato direttamente e questi contenuti sono tali quali sono questi contenuti diciamo che Darrell Francis si è spinto fino ad affermare che queste linee guida apparentemente alterate da questi studi che sono stati messi in discussione sono probabilmente tali da raccomandare un trattamento che paradossalmente invece di ridurre il rischio di mortalità probabilmente lo aumenta sottolineo probabilmente lo aumenta adesso vi faccio vedere anche di di quanto si è spinto anche a stimare quello che potrebbe essere è stato il risultato in termini di decessi aggiuntivi a livello europeo nell'ipotesi in cui queste linee guida fossero state e stessero in questo momento venendo di fatto rispettate questione estremamente controversa capite bene le implicazioni e la cosa in questo momento è del tutto aperta questi sono i forest plot che forse cominciate a considerare come familiari che sono la maniera in cui vengono presentati i risultati delle meta-analisi avremo poi una lezione specificamente che ci spiegherà anche come si costruiscono e qual è il significato specifico di questi simboli comunque in ogni caso questo forest plot cioè questo grafico qui iniziale riporta complessivamente il ah no chiedo scusa questi sono già qui ho già riportato i due grafici che scorporano l'insieme degli altri studi presi in considerazione sulla base dei quali sono state formulate queste linee guida che raccomandano l'uso dei beta-bloccanti e questi invece sono i due principali studi quei di CRIS 4 e 6 che sono stati invece messi in discussione allora questo diamante sta a indicare la sommatoria lo dico male ma poi insomma fortunatamente avrete una lezione che ve lo dirà molto meglio l'effetto complessivo che si ricava dalla elaborazione comune dei risultati di tutti questi singoli studi se rispetto a questa linea il diamante sta sulla destra il risultato è a favore dell'assenza di trattamento farmacologico se sta a sinistra invece è a favore dell'uso del trattamento farmacologico cioè del beta-bloccante a favore nel senso che qui l'effetto è misurato in termini di aumento o riduzione della mortalità e questo è la meta-analisi per il principale outcome allora se si scorporano gli studi di fatto i risultati che si ottengono sono del tutto opposti cioè gli studi che ad oggi non sono stati messi in discussione condotti da altri gruppi e che per i quali apparentemente non c'è nessun motivo per preoccuparsi della validità o nessuno comunque l'ha messa in discussione danno un risultato che per quanto apparentemente non moltissimo ma è decisamente a favore del non uso del beta-bloccante perché altrimenti l'uso del beta-bloccante porterebbe a un aumento della mortalità che qui è stimato probabilisticamente all'incirca del 27% 1,27 questo è l'hot ratio con gli intervalli di confidenza piuttosto ampi a dire il vero però statisticamente significativi per chi ha qualche dimestichezza con questi aspetti intervalli che vanno dal 1% al 60% quindi l'1% può essere anche del tutto trascurabile il 60% è estremamente grave il valore medio è del 27% quindi attenzione a trarre delle conclusioni sul fatto che il beta-bloccante possa aumentare il rischio di morte però sicuramente sulla base di questi dati non lo riduce mentre nei due studi che sono stati messi in discussione uno dei quali attualmente è stato ritrattato alle viste ma l'altro non ancora l'uso del beta-bloccante risultava estremamente protettivo estremamente protettivo a ridurre il rischio di circa il 60% limiti fiduciali tra in realtà quasi un aumento e però una riduzione estremamente estremamente profonda si potrebbe discutere ulteriormente poi sui aspetti statistici ma qui l'unica cosa che mi interessa dire è che l'evidenza a favore del uso di un determinato trattamento farmacologico derivava essenzialmente o almeno il peso maggiore che poi faceva pendere la bilancia a favore del trattamento farmacologico e sulla base delle quali le linee guida sono state scritte era dovuto proprio questi due studi che sono stati messi in discussione che fare? la questione è tuttora aperta questo è l'articolo più recente quell'editoriale su Hart vi ho detto è ancora in sospeso Hart l'edito di Hart ha dichiarato che è in fase di peer review e che probabilmente sarà pubblicato ma l'articolo che ad oggi racconta più dettagliatamente tutta la storia è questo articolo sempre scritto da Darrell Francis con il suo principale collaboratore e pubblicato sul BMJ sul British Medical Journal che riassume dettagliatamente tutta la vicenda questo credo che possa essere un discreto esempio di diversi degli aspetti critici che possono riguardare la gestione di un caso di cattiva condotta scientifica sia internamente all'istituzione accademica sia per quanto riguarda le sue implicazioni anche da un punto di vista sociale collettivo e direi estremamente pratico l'ultimo punto che vi voglio trattare ma in questo caso credo abbastanza rapidamente allora se queste sono tutte le questioni aperte ma vi ho detto brevemente negli Stati Uniti esiste l'Office for Research Integrity che si occupa quanto meno della ricerca all'interno degli NIH e della ricerca finanziata dagli NIH ma in Europa qual è la situazione e in Italia qual è la situazione allora questo Guidance on Research Integrity No Union in Europe è in realtà il titolo di una lettera a Lancet che è stata pubblicata esattamente l'anno scorso e che faceva il punto della situazione lo stato dell'arte per quanto riguarda effettivamente quelle che sono le regolamentazioni nei paesi dell'Unione Europea e vedete che la situazione è abbastanza variegata in questo senso No Union in Europe in violetto è praticamente soltanto vedete nell'area direi dell'Europa centro-settentrionale penisola scandinava Germania paesi bassi Inghilterra l'esistenza addirittura di nazioni che hanno un framework nazionale cioè delle leggi delle vere e proprie leggi che regolamentano la questione o che comunque che hanno una struttura compresa l'Inghilterra che hanno comunque una struttura ben definita di linee guida e di procedure per gestire questi casi sebbene non definita per legge poi ci sono tutta una serie di paesi che hanno delle linee guida non di carattere generale per esempio legate a linee guida di singole istituzioni di ricerca oppure di singole società scientifiche e poi ci sono le nazioni in rosa e in questo senso Portogallo e Italia sono uniti anche per questo motivo le nazioni in rosa che non hanno apparentemente assolutamente nulla in cui la situazione è completamente vergine in qualche modo come si diceva una volta Hixunt Leones apparentemente dove la questione è del tutto aperta non è del tutto vero che in Italia non c'è assolutamente nulla in Italia va senza dubbio menzionato il fatto che con quella che comunque dal mio punto di vista è una famigerata riforma dell'università la legge del 2010 che è entrata in vigore nel 2011 sta creando enormi enormi problemi tuttavia tra le tante cose che ha introdotto ha introdotto anche l'obbligo per tutte le università di dotarsi di un codice etico la maggior parte dell'università questo obbligo lo ha adempiuto con un approccio molto italiano insomma nel senso che anche noi non siamo andati molto lontano da questo però devo dire avendo avuto l'opportunità di far parte del gruppo che ha redatto il codice etico della nostra università insieme al professor Picosti che tuttora è anche componente della commissione etica dell'università che questo codice prevede che abbiamo fatto il possibile se non per introdurre delle vere e proprie procedure per tenere conto delle questioni legate all'integrità scientifica e alla condotta responsabile della ricerca che abbiamo almeno fatto il possibile per introdurre e ho la pretesa di pensare che almeno per quanto ne so fino adesso abbiamo studiato approfonditamente la maggior parte dei codici etici delle università italiane anche perché noi siamo arrivati tra gli ultimi a darci un codice in questo senso devo dire che probabilmente questo è l'unico uno dei pochissimi codici in cui viene esplicitamente menzionata non casualmente ovviamente i temi dell'integrità scientifica e dell'etica della ricerca ne abbiamo dato una definizione non starò a leggervi dettagliatamente il tutto comunque abbiamo dato un'esplicita definizione questo ateneo ha una definizione interna quanto meno generale di quella che è l'integrità nella ricerca scientifica e l'etica nella ricerca abbiamo definito alcuni aspetti di carattere generale sottolineando ad esempio quella che è l'importanza che questo ateneo attribuisce o dovrebbe attribuire ai principi di integrità scientifica in particolare nella stesura delle tesi per il conseguimento della laurea e del dottorato di ricerca anche in considerazione del fondamentale valore formativo che queste esperienze rivestono per i giovani che per un certo tempo o per le loro prospettive vorrebbero impegnarsi nell'attività di ricerca abbiamo anche esplicitamente detto oggi pomeriggio ci siamo occupati dell'uso degli animali e la ricerca scientifica e domani questo sarà il tema principale di cui tratteremo abbiamo anche esplicitamente detto questo ateneo abbraccia i principi fondamentali di sostituzione di riduzione e di perfezionamento le tre R nella ricerca con i modelli animali è una dichiarazione di principio io tendo a dire che fino adesso da azzardo anche a dire lo dico pubblicamente che per il momento è rimasta tale però è una dichiarazione sulla quale sulla quale c'è in questo momento la possibilità di costruire abbiamo detto anche alcune cose riguardo alle fonti di finanziamento spingendoci per esempio a dire che l'università è contraria allo svolgimento di ricerche destinate unicamente a promuovere prodotti commerciali o fondate su presupposti non scientifici o comunque nocive alla salute pubblica e individuale cosa vuol dire questo da un punto di vista pratico vuol dire per esempio che questa università almeno in teoria riterrà probabilmente di non dovrebbe ritenere di non svolgere al suo interno ricerca per esempio in ambito biomedico dedicato a per esempio approcci terapeutici non scientificamente dimostrabili non ne menziono nessuno in maniera tale da non poter essere accusato di dimenticarne qualcuno ma insomma per esempio quando oggi il professor McClough ci ha dato vedere quel risultato del glutammato alla 10 alla meno 60 questo è un ottimo esempio di ricerca sulla preparazione omeopatica questo potrebbe essere oggetto di un altro di un altro corso questo è quanto insomma che ora mi ha fatto benissimo allora direi che ci possiamo fermare qui c'era l'opzione di un filmato ve lo segnalo semplicemente ma ve lo raccomando più che altro che è un fermato interattivo e potete anche prenderlo come una sorta di gioco di ruolo sul sul sito del office for research integrity del statunitense potete trovare facilmente perché il link è sulla home page il link a questa che è una sorta di una volta il serabeto sitcom come potrebbe essere definito insomma ma è di fatto un gioco di ruolo un filmato interattivo a tappe nelle quali vi viene presentata una situazione che è quella di un laboratorio nel quale a un certo punto succede che il responsabile di un progetto di ricerca modifica falsifica dei dati per ottenere una pubblicazione su una rivista scientifica di livello molto elevato dati prodotti da una giovane dottoranda di ricerca che con quell'articolo riesce finalmente a pubblicare il terzo lavoro che le manca per conseguire il proprio titolo di dottore di ricerca con tutta una struttura a bivi bivi nel senso di plurale di bivio e le possibili conseguenze con anche il suggerimento rispetto a quelle che possono il suggerimento e il commento insomma una sorta di tutorial rispetto a quelle che possono essere le implicazioni delle varie scelte il gioco è di ruolo perché potete scegliere di immedesimarvi nella giovane dottoranda potete scegliere di immedesimarvi nel responsabile del progetto di ricerca potete scegliere di immedesimarvi nel direttore dell'istituto o anche cosa che non potreste fare qui da noi perché la figura non esiste nel funzionario responsabile della gestione del ricevimento delle segnalazioni e della gestione di possibili di segnalazioni di cattiva condotta scientifica ovviamente siamo nel contesto statunitense dove le storie tanto più se sono storie televisive cinematografiche hanno sempre un lieto fine non è detto che il fine debba essere sempre così lieto però sicuramente è un tutorial interattivo anche interessante da seguire lo trovate facilmente sul web direi che per stasera o meglio per oggi abbiamo concluso di segnalità di segnalità di segnalità